Chi è Thali Sorek? È una bambina, come tante bambine, ma è una bambina direi speciale, particolare, perché è una bambina che, ahimè, come tante, ogni giorno deve fare i conti con la guerra, con la violenza. È una bambina israeliana che spesso vede su di sé, invece del cielo, vede i razzi, che spesso vede sul volto delle persone il sangue, che spesso è costretta a svegliarsi di notte, a fuggire. È una bambina però che ha voglia di vivere. È una bambina che non solo ha voglia di vivere, ma anche ha voglia di lottare. E oggi vi voglio presentare questa bambina perché lei è un motivo in più che ci fa comprendere come sia possibile saper cogliere la luce nelle tenebre, saper vedere il bene, saper estrarre, fare uscire il bene dal male e quindi saperci educare alla felicità. Perché, come ho già detto, noi molte volte pensiamo che la felicità è non avere problemi, essere sempre comunque tranquilli. La felicità, tante volte, è saper lottare, è saper continuare ad amare. E ultimamente ho ricevuto diversi email, proprio di persone che mi dicono, come facciamo noi a essere felici? È chi mi racconta della sua solitudine, della sua povertà, qualche altro mi racconta della sua malattia, qualche altra persona mi racconta invece delle rinunzie che ha dovuto fare per assistere il padre piuttosto che la madre malati. Come si fa a dire a queste persone che occorre essere felici? Ecco che qui torna un problema difficile perché, vedete, io non ho soluzioni e fondamentalmente non so rispondere a queste domande, ma cerco di mettere in moto il cuore perché non ci sono delle domande come delle ricette. La felicità è qualcosa che tu hai dentro e la felicità spesso, sovente, se non quasi sempre, vuol dire lottare. Lottare contro le tenebre e la disperazione che ti vogliono appunto schiacciare. E voglio leggervi proprio una poesia che la nostra amica Thaliso Rech, questa bambina israeliana, ha scritto proprio vivendo l'esperienza della guerra, l'esperienza della violenza. Ascoltiamola. Avevo una scatola di colori, brillanti, decisi e vivaci. Avevo una scatola di colori, alcuni caldi, altri molto freddi. Non avevo il rosso per il sangue dei feriti. Non avevo il nero per il pianto degli orfani. Non avevo il bianco per le mani e il volto dei morti. Non avevo il giallo per le sabbie ardenti. Ma avevo l'arancio per la gioia della vita. E il verde per i germogli e i nidi. E il celeste dei chiari cieli splendenti. E il rosa per i sogni e il riposo. Cosa ha fatto Thaliso Rech? Lo dice lei stessa. Mi sono seduta e ho dipinto la pace. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti.